Vorrei sapere se con il nilotinib si può prendere il sole al mare, ovviamente sempre con protezione solare? Vai grazie, è una domanda confezionata per Giuseppe, è spertissima anche in mieloide croniche. Vediamo, io direi che in realtà grosse grosse controindicazioni non ce ne sono, certo una protezione solare va messa, non esporsi nelle ore più calde, è giusto un minimo di buonsenso, però che io sappia non sono documentate delle grosse reazioni di fotosensibilizzazione nelle aree cutanea in pazienti che fanno trattamento con nilotinib, Giuseppe, tu che dici? Un'abbondante idratazione post esposizione perché nilotinib la secchezza della cutanea.